Buona giornata amici, bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è sabato 13 luglio 2024 e prepariamoci ad affrontare un weekend ricco di manifestazioni a Fano siamo nelle giornate culminanti dell'Affano dei Cesari. Oggi avremo uno grande spettacolo, anzi questa sera avremo un grande spettacolo al Pincio e poi domani la grande giornata della sfilata, sfilata di 2000 figuranti che rievocano i fasti dell'antica Roma che culminerà poi con la Corsa delle Bighe. E' uno spettacolo emozionante, tutto da vivere e tutto da godere perché la cornice che lo racchiude è una cornice reale, una cornice veramente suggestiva, quello dell'arco di Augusto e delle mura romane di Fano. E allora passiamo con le previsioni del tempo e il santo che si festeggia oggi. Lo vediamo qui nella grafica, si tratta di Sant'Enrico, Sant'Enrico II era imperatore. E non è detto che gli imperatori siano sempre dei despoti oppure dei guerrieri oppure delle persone che guardano il popolo dall'alto al basso, ci sono anche dei santi, delle persone che hanno condotto pur negli agi di quello che può essere un palazzo reale, un palazzo imperiale, una vita semplice, una vita morigerata. E così è stato per Enrico II, che visse tra il X e l'XI secolo. Era figlio di Enrico, re di Baviera, e di Gisela, figlia di Corrado, re di Borgogna. Fu incoronato da Benedetto VIII nel 1014, sposò Cunegonda, anche lei poi divenne santa, e costruì molte chiese, orfanatrofie e sedi vescovile. Convertì addirittura con il suo esempio, ma anche con la sua parola, Stefano, re di Bohemia. E quindi veramente fu un santo, un santo che a un certo punto voleva anche ritirarsi in convento, ma fu dissuaso perché la sua conduzione dell'impero era una conduzione giusta ed era meglio che Coma continuasse a fare l'imperatore di mestiere. Questo è quanto si dice dagli annali. E allora, vediamo le previsioni del tempo. Fa caldo, fa tanto caldo, la temperatura sale ancora, 26 gradi la minima, pensate. 26 gradi sono un po' la massima per quanto riguarda delle giornate temperate. Ebbene, 26 gradi la minima, 33, 34, 35 gradi la massima. Il tempo è stabile ed ampiamente soleggiato in tutta la regione Marche, con caldo intenso su settori interni pianeggianti. I venti, venti sulle coste est-nord-est nell'interno, da sud-ovest, il mare è calmo. Vediamo che il sole è sorto alle 5.36 e tramonterà alle 20.49. Ciò detto, passiamo subito alla lettura dei giornali, cominciando oggi dal resto del Carlino. E vediamo la pagina di Fano che riguarda un provvedimento che è stato reso noto ieri dal sindaco di Fano, Luca Serfilippi, nel corso dell'ormai abituale conferenza stampa del venerdì. Al via l'operazione Nettuno. Di cosa si tratta? Si tratta del recupero, della rimozione di quel relitto, di quel battello affondato nel porto di Fano che costituiva un ostacolo alla navigazione ormai da molti mesi. Il proprietario del battello si era rifiutato di rimuoverlo e la cosa era rimasta lì in stallo per tanto tanto tempo. Insediatasi la nuova giunta, in breve si è riusciti a trovare i soldi. Sarà finanziato l'operazione dall'amministrazione comunale e non dal proprietario almeno al momento, in modo che in due o tre giorni la cosa venga risolta. Vediamo la data dei lavori e quella di lunedì 22 luglio. Per tre giorni, fino al 25, ci sarà un divieto di accesso H24 per tutti gli autoveicoli che percorreranno quel tratto di viale adriatico. Si vuole lasciare libera la banchina per l'insediamento di una grande gru che dovrà sollevare con due fasce che passeranno sotto la chiglia della barca affondata in modo da sollevarla e di poi portarla in banchina. Un'operazione che al Comune costerà 85 mila euro. Si erano preventivate cifre superiori in passato, ma da un calcolo più esatto si è raggiunta questa cifra. E poi il Comune cercherà di rivalersi nei confronti del proprietario se riuscirà appunto a avere i soldi indietro, perché ovviamente se lui non fa fa il Comune, poi il Comune si rifà con il proprietario. Ma questo è un altro discorso che vedremo in seguito. Quindi è importante, la barca sarà rimossa e ci sarà questo divieto di transito per tutti gli autoveicoli motorizzati. Ovviamente ci sarà libero accesso ai residenti e poi a coloro che cammineranno a piedi oppure in bicicletta ci saranno degli itinerari un pochino protetti. Però insomma gli autoveicoli per tre giorni non potranno passare. Vediamo le altre notizie. Anche questa è emersa nella conferenza stampa del sindaco di ieri. Ebbene, canale Albani ripulito, c'erano biciclette, monopattini, sedie, copertoni, 13 copertoni che sono stati rimossi dall'Aset nell'alveo del canale Albani. Un canale che ora in secca e che purtroppo dà un brutto spettacolo alla città di Fano in piena estate, in piena stagione turistica. E per questo ieri il sindaco Sir Filippi ha detto che bisognerà mettere alle strette Enel Green Power che ha la proprietà del corso d'acqua perché ogni estate non si può far sì che fanno mostri questo spettacolo che è brutto. Canale Albani è un bellissimo ambiente pieno di vita, c'è la fauna, c'è la vegetazione, c'è questo corso d'acqua che attraversa buona parte della città ma quando è in secca veramente è una cosa brutta. Però l'importante al momento è assicurare la sopravvivenza della fauna, ci sono circa una settantina di anatidi, ci sono le nutrie, c'è il cigno nero che è un po' l'emblema della fauna del canale Albani, comunque c'è un'associazione che si occupa del loro sostentamento e della loro cura e quindi questo almeno è un aspetto preservato. Ebbè il problema però è quello della briglia, della briglia che divide l'acqua del metauro e la porta nel canale, è stata danneggiata durante un'alluvione negli anni scorsi e non è stata mai riparata completamente, bisognerà provvedere al più presto a completare i lavori. Un altro articolo di Spalla, un piazzale per Carlo Amodio, uno dei medici più amati della città di Fano, purtroppo è stato vittima del Covid insieme ad altri personaggi illustri come Alberto Berardi e Italo Nannini e poi anche altri. Ebbene c'è un'iniziativa fatta in suo ricordo, in suo onore, ma non a Fano, bensì a Mondavio dove il medico, dove Carlo Amodio iniziò la sua professione. Ebbene il sindaco Marco Zenobi, grato per questa figura di medico che era molto affabile, molto disponibile con tutti, ha deciso di intitolare la piazza antistante al distretto sanitario polioambulatorio di Mondavio a Carlo Amodio. A testimonianza ha detto della gratitudine dell'intera comunità per l'impegno profuso come medico. Beh, è un atto veramente incommiabile, un atto gentile. Saranno presenti le autorità, sarà presente la famiglia, saranno presenti i dirigenti della sanità provinciale. Giriamo la pagina e parliamo dell'Affano dei Cesari. Parliamo dell'Affano dei Cesari. Oggi è una giornata importante di grande, di grande spettacolo che avrà luogo al Pincio, ma anche in piazza 20 Settembre. Questa sera ci sarà l'abbinamento tra gli aurighi e le fazioni che dovranno insomma essere rappresentate nel modo migliore da questa gara, questa gara che è sempre spettacolare. Si dice sempre che è una cosa cinematografica, che è una cosa artefatta, però in realtà destra sempre una certa emozione. Giocheranno le luci, giocherà l'ambiente, giocheranno le mura romane, l'arco d'Augusto, eccetera. Però insomma la cosa è molto molto bella. All'Affano dei Cesari, debutta dalle 22, la grande novità di questa edizione è uno spettacolo dedicato al dio Nettuno da parte della colonia Iulia Panestris. Siccome Nettuno è il dio del mare, il dio dell'acqua, sarà allestita una grande piscina davanti all'arco di Augusto dove saliranno verso il cielo delle fontane zampillanti, fontane luminose. E sarà veramente un bello spettacolo. E intitola bello, intitola bene il resto del carlino. Dopo il fuoco, il fuoco vi ricordate, quello spettacolo col fuoco roboante, luminoso, incandescente che si è svolto l'anno scorso, ebbene quest'anno sarà l'acqua a essere ancora più, a rendere ancora più bello, ancora più accattivante, lo spettacolo dell'affano dei Cesari. Ed ora vediamo altre notizie a San Costanzo. C'è un incrocio pericoloso. La provincia dice abbiamo avviato l'iter per realizzare la rotatoria. Il presidente Giuseppe Paolini, dopo il monito del primo cittadino, il sindaco Domenico Carbone, che aveva così sollecitato la provincia ad intervenire, ebbene Paolini dice che non siamo immobili, non è che siamo stati con le mani in mano, anzi abbiamo dato al Comune la convenzione e aspettiamo che il Comune la provi. E c'è anche un bando già per i finanziamenti, quindi si cerca di realizzare al più presto questa infrastruttura in un punto pericoloso, l'intersezione tra la strada provinciale orcianense e la strada Mondolfo, che appunto attende dei correttivi per rendere più tranquilla, più sicura la circolazione. Si cerca ancora l'accoltellatore di Marotta, un ragazzo di 18 anni che ha ferito due persone che sono state trovate sanguinanti nella zona più turistica di Marotta. Non è stato ancora rintracciato, lo cercano in modo molto molto determinato i carabinieri. Il soggetto è stato identificato, si sa chi sia perché lo hanno identificato grazie alle videocamere. Si tratta di un pregiudicato, residente nel nord Italia, ma da un po' di tempo stava frequentando con assiduità la cittadina di Marotta. Si è dileguato subito dopo l'aggressione ed è stato identificato appunto dai carabinieri grazie alle telecamere. A Urbino, anzi vicino a Urbino, siamo nella zona di Santo Stefano di Gaifa, ebbene qui è stato trovato un giacimento romano. Rinvenuti reperti, vasche e pavimentazioni. Si stava realizzando un impianto di tipo imprenditoriale, di tipo industriale. Ebbene quella zona però è stata vincolata. Gli archeologi hanno trovato strutture di età antica che sono affiorate sotto una superficie molto molto diciamo così, molto superficiale rispetto al piano stredale e sotto proprio il terreno arato. qualunque lavoro le può raggiungere, anche se l'aratro magari a fondo di qualche centimetro trova subito i cocci e le strutture di quello che c'era in passato. Un insegnamento romano trovate tracce di lungo muro, vasche, strade, ceramiche, reperti. E gli archeologi sono fermati a scavare fino a circa un metro, ma è stato sufficiente per ritrovare queste cose. Se poi vanno ancora più sotto, trovano tante tante altre cose. La sopraintendenza andrà ad escludere totalmente questo settore a qualunque intervento edilizio e quindi i lavori programmati non si faranno. Claudio Rastrelli, lo vediamo qui nella foto, è il nuovo procuratore della Repubblica della città di Urbino. Viene da Macerata, dove ha svolto lì un servizio per 16 anni. È napoletano di origine e viene dalla procura appunto di Macerata dopo 16 anni di servizio. A Mercatello sul Metauro torna il Paglio del Somaro. In Lizza, quattro cantoni. Oggi si aprono gli stand, in settimana si svolgeranno svariati giochi e prove. Domenica prossima, domenica 21 luglio, il Paglio toccherà il culmine con il vincitore e poi il pranzo per tutta la frazione, per tutto il paese. Insomma, ogni castello, ogni borgo, ogni piccolo centro della nostra provincia ha il suo Paglio perché ha un suo passato, ha una sua storia ed è bello riviverla e poi mostrarla alla gente che viene da fuori. Quindi sono belle queste manifestazioni. Allora, vediamo anche la pagina di Pesaro dove si parla del fenomeno delle mucillaggini. Un fenomeno che desta ora qualche problema sia ai bagnanti che ai pescatori. Ma la particolarità di questo fenomeno è che di notte desta una fluorescenza, ovvero il mare, l'acqua, si illumina ad azzurro ed è un effetto molto molto suggestivo. La fioritura dei microorganismi ha sortito un effetto inattese, la luminescenza. Intanto però il tappeto di alghe sulla battigia è una trappola per i bagnanti. Certo non è una bella cosa perché poi le mucillaggini quando si attaccano sono un po' schifose e non è che sono una cosa bella a vedersi. E poi ci sono gli operatori che insorgono un po' su tutto il sistema dei divieti, delle norme che limitano le feste da ballo. Il caso delle feste vietate che viene messo in evidenza dal resto del Carlino, specialmente a Pesaro. Nessuno ha la licenza per il ballo. Ma non possiamo cacciare i ragazzi. Così facendo non facciamo altro che spingerli verso la Romagna. Qual è la soluzione? La soluzione è cercare di attrezzare ogni struttura che vuol fare una festa magari per fare anche un angolo per consentire ai giovani di ballare. Però ci vogliono le attrezzature, ci vogliono i permessi, ci vogliono tante cose che non è sempre facile ottenere. Tiriamo ancora le pagine e vediamo un appello che lancia una bellissima ragazza ucraina. Si tratta di una campionessa. Impossibile tornare a Kiev. Aiutatemi a restare a Pesaro. Il problema è quello di trovare una casa in affitto. Si tratta di Margherita, una ginnasta di spag, di spicco. La vediamo qui, al centro di questa fotografia. Qui la vediamo in una foto, in una testina. E qua abbracciata dalle sue amiche. Il sindaco Biancani ha cercato di trovare tutte le soluzioni, ha avuto anche una lettera di encomio per questa ragazza. Insomma, si cercherà di così costituire tutto un sistema di aiuti perché questa ragazza possa rimanere nella nostra città. Vediamo anche un ultimo articolo per quanto riguarda Valle Foglia. A Valle Foglia si organizza la Notte Bianca un tour del divertimento in otto tappe. Spettacoli, musica, shopping, appuntamenti anche nelle varie frazioni del comune con concerti, esibizioni. È previsto anche un servizio navetta per collegare i parcheggi poi con il luogo degli spettacoli ma anche tra gli spettacoli l'uno con l'altro e qui c'è il programma delle proposte proposte che si dilungano per tutta la notte fino alle 4 del mattino. Ed ora passiamo al Corriere Adriatico. L'apertura sul pagina di Fano è dedicata alla rimozione del relitto del porto, rimozione del Nettuno, serviranno 4 giorni dal 22 luglio l'intervento per il peschereccio affondato 100 metri off limits sono 100 metri di strada di Viale Adriatico che non saranno come abbiamo detto più percorribili dagli autoveicoli motorizzati. E poi vediamo anche qui l'articolo che preannuncia il programma di oggi della Fano dei Cesari alla ribalta la colonia Giulia Fanestris con lo spettacolo anche qui c'è Nettuno un Nettuno è diverso rispetto a quello del relitto ma è sempre Nettuno che è il dio del mare il dio dell'acqua e quindi darà spettacolo di se stesso. L'altro spettacolo lo dà questa sera l'orchestra sinfonica Rossini organizzando il terzo appuntamento del Sinfoni Pop Festival alla ribalta sarà la bellissima voce di Chiara Gagliazzo si tratta di una delle voci pop più amate d'Italia ha vinto l'X Factor negli anni passati e si esibirà in un programma di musica leggera italiana accompagnata appunto dall'orchestra quindi grande musica alla rocca malatestiana a partire dalle ore 21 di questa sera tenere pulito l'ambiente giocando è uno degli obiettivi ovviamente dell'ASET ma anche delle cooperative che si dedicano alla gestione dei centri estivi in questo caso si tratta della cooperativa POLIS che in collaborazione con l'ASI con l'ASET con il comune di Fano ha attuato il progetto JUMP un mondo pulito coinvolgendo i bambini che frequentano i centri estivi e sono bambini anche piccolissimi da 3 ai 6 anni da 6 ai 14 anni alla raccolta dei rifiuti abbandonati nei campi nelle strade nei parchi si raccolgono erbacce si raccolgono carte plastiche insomma si attua un'azione educativa molto importante perché poi questi valori a quell'età quando vengono condivisi rimangono per tutta la vita e quindi anche in futuro questi ragazzi faranno senz'altro la raccolta differenziata e ieri sono stati premiati con dei piccoli gadget per il lavoro svolto dal presidente dell'ASET Paolo Reginelli e dalla vice sindaca del comune di Fano Loretta Manocchi ore strategiche ore strategie coordinate sono ore strategiche anche per quanto è il problema dell'artigianato fanese ebbene i rappresentanti di categoria della confartigianato ieri hanno incontrato la giunta di Fano evidenziando qual è la situazione del settore ci sono 5.535 imprese che erano dal 2019 passate alle 5.296 del 2023 questo dimostra come la diminuzione costituisca un elemento su cui riflettere per quanto riguarda l'incidenza nella economia fanese in particolare le imprese artigiane sono un po' lo zoccolo duro della nostra economia perché sono l'espressione della piccola imprenditorialità che è stata per tanto tempo il modello dell'economia regionale poi abbiamo un articolo di politica questo è l'articolo scusate non l'ho inquadrato prima l'articolo dell'incontro della confartigianato con il sindaco invece a fondo pagina abbiamo un articolo di politica una presa di posizione di Samuele Mascarin che critica fratelli d'Italia in quanto il partito si dedicherebbe soprattutto alla lotta per gli incarichi per occupare certe poltrone invece di risolvere i problemi della città questa è la posizione di Mascarin passiamo ad Aqualagna passiamo ad Aqualagna vediamo che si parla del tartufo bianco una delle specialità gastronomiche di grande attrattore turistico del nostro territorio il marketing è da rinnovare lo dice il sindaco Pierluigi Grassi un nuovo sviluppo facciamo squadra è l'invito del primo cittadino il quale lavora già un programma incentrato sul ruolo chiave del comune che è un po' l'input che dà che dà è l'incentivo che dà appunto l'avvio a tutta una serie di programmi e di appuntamenti vediamo anche l'articolo di Marotta che riguarda l'accoltellamento del diciottenne protagonista del diciottenne nei confronti di due vittime di età leggermente superiore se gli esercenti dicono servono più controlli e ci sono qui in questo articolo le reazioni per il feramento dei due giovani dopo quanto accaduto insomma un accoltellamento anche a Marotta dopo quanto accaduto a Fano costituisce un certo allarme per l'ordine pubblico che caratterizza questa stagione estiva vediamo la pagina di Senigallia X Masters città invasa da 60.000 sportivi pensate quale successo ha ottenuto questo evento targato Radio 105 un evento caratterizzato da corse triathlon che hanno un po' stravolto la viabilità ebbene debutta oggi questo evento con tutte le sue iniziative si comincia con l'Alba Run occhio alle strade chiuse perché ci sono delle variazioni non di poco conto che interessano tutta la viabilità di Senigallia e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa l'appuntamento come sempre è alle 7 di lunedì prossimo oggi è sabato per le notizie del giorno faremo una resoconto di tutto quello che è accaduto nella settimana che sta per concludersi e questo è tutto per il momento Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento appunto a lunedì prossimo grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti